Prosegue il ciclo di conferenze su terra e clima. Venerdì avremo il professor Salbitano che ci parlerà delle foreste urbane e di come queste foreste urbane potranno avere un impatto sul nostro futuro. Un'altra delle conferenze che abbiamo organizzato per questo primo scorcio del 2023, la scorsa settimana abbiamo avuto padre Gianni Giacomelli che ci ha parlato del rapporto tra natura e uomo, anche da un punto di vista spirituale. Proseguiamo venerdì con Salbitano e poi seguiranno un ciclo di altre conferenze dove parleremo di comunità energetiche, di biodiversità, di mare e poi di salute, di economia e di medicina. Sono conferenze molto partecipate a testimonianza del fatto che sono temi certamente molto sentiti dal nostro territorio e che comunque sono momenti di riflessione che penso possano essere utili a ciascuno di noi. Dove si terrà l'appuntamento e in che orario? Venerdì 17 alle 17.30 presso la Fondazione, presso la sala di rappresentanza della Fondazione Carifano.